vi propongo ora un bellissimo esercizio e molto efficace che serve per tonificare i muscoli delle cosce i quadricipiti e i nostri glutei ci posizioniamo davanti al passeggino teniamo la larghezza delle nostre spalle delle nostre gambe corrispondenti più o meno quella delle nostre spalle impugniamo i manici del passeggino e facciamo questo esercizio che si chiama squat cioè piegamento sulle gambe porto su un'ipotetica sedia i miei glutei scendendo indietro nel momento in cui risalgo porto il passeggino verso di me ne facciamo un altro di prova quindi inspiro quando scendo portando il passeggino in avanti ed espiro quando salgo attenzione contrarre gli addominali appiattire la curva lombare ed evitare di fare questo la mia sedia è dietro ok partiamo inspiro quando salgo spingo sul tallone e lavoro il gluteo gli ultimi due e questo è l'ultimo qualche secondo di pausa e se abbiamo fortuna il nostro bimbo si sarà anche addormentato meglio di così e ripartiamo riprendiamo la larghezza delle nostre spalle impugniamo il passeggino mi raccomando la sedia è dietro inspiro butto fuori l'aria inspiro articolazione del ginocchio perpendicolare a quella della caviglia e ancora l'ultimo e stop passiamo al prossimo esercizio